Saluti a tutti da Monleone, quest'anno per fortuna siamo riusciti a rinnovare la seconda edizione del trofeo Amaro Camatti, un trofeo che l'anno scorso ci ha visto presenti tutte e quattro le società della Val Fontana Buona. Quest'anno a causa del covid è stato a rischio fino alla fine ma come vedete siamo riusciti a rinnovare questa amicizia con la distilleria Sangallo di Stefano Bergamino che domani sera sarà qua con noi e con l'Amaro Camatti che è una realtà della Val Fontana Buona. Quest'anno la Calvarese dopo la fusione col Cornia ha invitato altre tre squadre il Lumarzo già presente l'anno scorso la Cogornese e è stato invitato l'Atletico Casarza e vedete adesso la seconda partita si sta per preparare, ci sono i ragazzi che stanno facendo l'allenamento alle mie spalle, la prima partita è stata vinta dalla Cogornese che quindi domani sera disputerà la finalissima, primo e secondo posto. La cosa bellissima che vorrei raccontarvi è che grazie comunque all'attenzione che la Calvarese presta per l'enorme covid e alla collaborazione col circolo Anspi di Monleone siamo riusciti a fare anche quest'anno gli stand gastronomici e quindi abbiamo un divertimento, un'amicizia legata allo sport e alla gastronomia qua come l'anno scorso. Adesso ci prepariamo a giocare due tempi da 30 minuti, io giocherò al secondo tempo e il pubblico è stato monitorato con le autocertificazioni, la misurazione della temperatura quindi è stata per noi società un ottimo test, un test match per le partite dei campionato. Oggi la federazione ha mandato in allegato i documenti per il covid, per le squadre, per gli eventi gara e noi stasera li abbiamo potuti compilare e ci siamo scambiati tra società questa nuova procedura che dovremo utilizzare dall'inizio del campionato. Ringraziamo anche Intellatv qua presente per il secondo anno col salottino televisivo che vedrà a ruota libera gli ospiti del trofeo entrare nel salotto e avere senza il conduttore una serie di scambi sullo sport dilettantistico e sulle esperienze vissute in ambito sportivo nel passato e nel presente. Domani sera sarà presente Ruggero Rossi dell'associazione Onlus Bambini di Malica che anche l'anno scorso era il nostro partner, partner solidale per raccogliere fondi per creare in Senegal una struttura sportiva e scolastica per i bambini. Grazie mille e buona festa, vi aspettiamo anche domani sera sabato alle 19 per i nostri stand gastronomici e per la nostra amicizia sportiva. Buonasera e benvenuti al secondo Memorial Camatti dove si vedono affrontare le squadre di Atletico Casarza, Calvarese, Lumarzo e Cogornese. Qua abbiamo l'occasione per presentare due figure fantastiche del Levante, abbiamo Antonio Xai, dirigente del Golfo Avvenio Recco Paradiso, come si chiamano, lo so, e Mario Lavagna, dirigente del Real Deva. Possiamo cominciare a fare per esempio qualche domanda dilettantistica anche perché mi trovo a fare queste domande perché sono in sostituzione di una defezione dell'ultimo minuto, un accordo con un conduttore saltato, non stiamo qua a dileguarci sui motivi ma una, vabbè, lasciamo perdere. Mario, allora raccontami un po' di te, tu sei nato calcisticamente dove? Allora io calcisticamente sono nato nel Deiva, ho fatto due anni, uno negli allievi e uno giovanissimi e la prima giornata di campionato abbiamo vinto 2 a 1 con la Carlo Grassi, ho fatto gol di testa, prima partita che ho giocato a 11 e poi dopo quattro domeniche abbiamo finito il campionato perché ci avevano squalificato e l'anno dopo abbiamo fatto un altro campionato, non è andato tanto bene però vabbè, pazienza. Vabbè, ma vi siete divertiti comunque? Sì, Sì, non male. Idoli di calcio, dilettantistico? Ma idoli di calcio, dilettantistico, tanti però ti posso dire che ho giocato con un sacco di giocatori forti e quando ho giocato nella Framurese, poi ho giocato nella Ciasetta e poi... No, con la Pradozzato non ci ho giocato, ho giocato con Gianluca Malatesta, ho giocato con Zina, ho giocato con Semprevivo, Chiavero, Maggi, Sidio, poi ho giocato con Nemini, che è quella della Fontana Buona, difensore così forte, il difensore più forte con cui ho giocato e... Poi cosa ti posso dire... E stasera in che feste sei qua? Eh, sono venuto perché mi hanno chiesto di venire a fare questa intervista e ti posso dire che quest'anno con Real Day abbiamo cambiato da un attore, ci abbiamo adesso Capaci, prima esperienza, speriamo bene. Class 86 se non sbaglio? Sì, Class 86, e poi cosa ti posso dire, ho visto un po' di partita, mi sembra che la Cocornese sia una squadra abbastanza forte, lo marzo l'ho visto un po' sulle gambe, però hai due giorni che si allenano. Ci sono anche due categorie di differenza però, eh? Sì, è vero appunto. Passiamo un attimo a intervistare Antonio Xai, Antonio Xai che è qua. Buonasera, buonasera a tutti, volevo salutare Mirko Mimì e De Martini che questa sera non è presente, però sei sempre nei nostri cuori. Mirko, ti vogliamo bene tutti. Dimmi un po', ora quest'anno dove ti vede il protagonista al calcio? Quest'anno sono a Chiavari, nel Marina Giulia, come l'anno scorso e sono qua per rappresentare loro. Vabbè, piccola digressione, volevamo sicuramente ringraziare Mobilia per l'ospitalità degli accessori che noi vediamo qua esposti e niente, ci vediamo dopo. Adesso si stanno accingendo a affrontarsi Calvarese e Atletico Casarza e tutto bene. Mario, voglio ancora dire qualcosa o ci sentiamo dopo? Eh no, voglio dire che l'Atletico Casarza sono dei miei amici e poi saluto il Rosso perché mi ha detto di salutarlo e spero che Bomber Piazza mi faccia vedere la sua classe stasera. Anch'io saluto Mirko, mi spiace che tu non sia qua, però come vedi ospiti scomodi non ce ne sono, anzi questa sera iniziamo col gioco del confessionale con questi due ospiti. Chiedo a entrambi di estrarre una cartolina e di fare quello che c'è scritto nella nel retro della cartolina. Mario, cosa c'è scritto? Oh, sei una donna, un uomo e bevi tre camati, io sono a Stemio. Eh, ti bevi tre camati allora. Perché non vuoi bere il camati? È un aperitivo, un cordiale molto sentito qua in valle. Eh, perché sono a Stemio, però faccio la foto. Facciamo la foto, facciamo la foto poi con la bottiglia e col cicchietto di Amaro Camatti. Ok. Perfetto. Bene, lo chiamiamo subito, è andato via. È andato via Alessio Giudice, però è stato il primo a essere estratto. Baccia Alessio Giudice. L'avrei baciato volentieri. L'avresti baciato volentieri? Sì, sì, molto. Allora, fiscano in un'altra. Il compagno che ha avuto più successo. Su, dici il compagno che hai avuto più successo in amore. Mirko Mimide Martini. Mirko Mimide Martini? È mattatore di serata allora. Il mattatore di serata. Vuoi provare la sorte un'altra volta? Sì. Se esce di bere, però devi bere. Bevo io al suo posto. Perfetto. Grande. Che s'ha fatta? Bevi due a Camatti. Bevi due a Camatti. Non mi ha fatto apposta. Ecco. L'avversario più antipatico? L'avversario più antipatico. Qual è stato l'avversario più antipatico che hai incontrato? Mi dispiace dirlo perché qua, ma lo dicevo prima, l'anno scorso quando abbiamo giocato a Real Diva a Marina Giulia, Trebbini mi ha fatto arrabbiare perché tra l'altro è un ragazzo che conosco durante una partita, mi ha preso il gol del 2-0, ci ha speffeggiato, e mi sono un po' arrabbiato perché non si fanno queste cose. Scusa Andrea, poi intervengo un attimo su questo fattore qua che ero presente anch'io in campo. Sì, ma io non ce l'ho contento. Non litighiamo però. No, però non mi è piaciuto tanto, via. Sentiamo la controparte. Allora, Trebbini non ha fatto niente di male. Chi si è comportato male? Mario è la tua società che si sono accaniti tutti contro di loro, tutti contro Trebbini negli spogliatoi e basta. Quindi, abbi pazienza, ma Trebbini ha festeggiato da solo, dal fondo campo, e voi ve la siete presa con lui. Tutto lì. Vuoi la controparte? Sì, veramente quando siamo usciti mi ha fatto un versetto anche a me, che è andata bene, che il mio presidente mi cedeva di stare bravo. Quindi... Due visioni diverse. Io direi di sancire la pace con un cordiale, con una cordiale stretta di mano. Che dici? Ma sì, ma l'avanti è un grande, vedi. Vale Mario. Perfetto. Forza Marina Giulia. Abbiamo fatto la pace, abbiamo fatto la pace, perfetto. Buonasera, io non sono un intervistatore, però per il trofeo Amaro Camatti faccio anche questo, per i ragazzi di Amaro Camatti, faccio un'intervista a Nassano. Quest'anno sei in una squadra di calcio, dove sei? No, quest'anno non seguo nessuna squadra. Gli altri anni ho seguito il Moconesi, quando c'era Mauro Fopiano, poi sono andato a seguire il Rappallo, quando c'era i primi anni, diciamo che c'era il... Vabbè, poi è diventato Rappallo Rivarolese, il primo anno l'ho seguito, poi hanno preferito scegliere la ragazza, diciamo, di dire tantissimo e io adesso ho smesso, appunto, nessuno mi ha cercato, perché tutti vorrebbero fare i video, però nessuno vuole dare rimborsi, insomma, ci sono anche dei costi, non è che sia andare in giro così, divertimento un po' c'è, però... Vabbè, se vuoi venire a Deiva, ti prendiamo abbraccio aperto, se vuoi venire a Deiva, io faccio dirigente nel Real Deiva, se vuoi venire a Deiva... Quando venivo qua a Moconesi, un po' lo facevo anche per gli amici, poi sarei anche andato a Recco con Mauro Fopiano, solo che anche lì, da terra a terra, soldi non ne girava niente, allora, almeno le spese ci vogliono, ecco. Ah, ok, Mauro... Perché il divertimento è un conto, il lobby è un conto, però, insomma, le spese ci sono, il viaggio, tempo a perdere, perché io registravo, praticamente, seguivo col telefonino tutte le azioni e quando c'era un'azione importante la mandavo a dire tantissimo direttamente su WhatsApp e loro, praticamente, alla sera facevano un video da dare con un commento e poi facevo il video completo di tutte le azioni... Vabbè, allora una cosa potresti farla, però... Allora, ti dico una cosa, l'anno scorso, una sera, siccome non avevamo di portieri, ho fatto l'allenamento da portiere col preparatore dei portieri, poi l'ho fatto tutto l'anno perché mi è piaciuto, anche se non sono un portiere perché non posso giocare in porta, siccome... se una volta vieni, quando facciamo un allenamento, mi fai il video quando faccio l'allenamento da portiere, sarebbe spettacolare... Vieni, ti offro una pizza, guarda... Ma dove... A Deiva... A Deiva... Se vieni una volta durante l'anno, quando viene caldo, non col freddo... Sì, sì, sì... Se vieni una volta, mi fai il video, mi fai piacere... Verso l'estate prossima... Sì, lo mandi a dire tantissimo, va benissimo... Ok, dai, mi mandi semmai l'invito, perché se no magari non ci vediamo più, mandi l'invito e... Va bene, ti mando l'invito... Ok... Grazie per l'intervista, arrivederci... Ciao Minister, secondo anno alla guida della Cogornese, con che prospettive riparti quest'anno, quali sono i tuoi obiettivi, come ti sei trovato questa sera? Allora, partiamo da come mi sono trovato questa sera, molto bene, ma non avevo dubbi, perché l'ambiente calvarese lo conosco, visto che ho avuto l'opportunità di giocarci, anche se per poco... Secondo anno alla Cogornese, l'obiettivo è quello di fare meglio della scorsa stagione, soprattutto nei primi tre mesi, dove abbiamo fatto cinque punti in non so quante partite, e poi quella di divertirci, cioè andare al campo, fare bene in settimana e poi sabato o la domenica, chi lo sa, vedere cosa riusciamo a raccogliere. Adesso vi state già allenando a San Martino oppure ancora sotto lavori? Dove vi state allenando? Che problematiche state avendo? Come vi organizzate? Pronti per il 4 di ottobre? Allora, adesso siamo al campo San Martino da lunedì, quindi lunedì il campo era pronto, mancano ancora le reti, ma il campo è pronto. Nelle due settimane precedenti ci siamo allenati prima in strada, con la disponibilità dei ragazzi, e poi siamo andati in un campo a 5 che c'è a Cogorno a disposizione della società. Perfetto, perfetto. Ultima domanda, il dubbio dell'estate è il girone nel quale saranno inserite le levantine, se il girone C, D o il girone B del sabato. Voi eravate nel girone B del sabato, siete anche voi in dubbio? Avete avuto notizie? Quali sarebbero le vostre richieste per l'anno prossimo? Volete rimanere nel B o volete anche spostarvi? Allora, la richiesta della Cogornese, da quanto so io, è quella di fare l'iscrizione al B, che è del sabato pomeriggio, per diversi motivi, tra cui il fatto che tanti ragazzi, la squadra è stata costruita anche con ragazzi che la domenica non darebbero la disponibilità ad esserci o non la darebbero in maniera totale e visto il fatto che in un primo comunicato uscito dalla federazione sembrava che chi si era salvato, quindi aveva mantenuto la categoria l'anno scorso nel girone B, quest'anno aveva diritto di iscriversi al girone B. Poi tutte le vicissitudini del Covid hanno fatto sì che qualche squadra, magari soprattutto nello spezzino, non sia iscritta e quindi c'è questo punto di domanda. Io spero di non capitare nello spezzino perché di andare a giocare la domenica mattina alle 10 e mezza, faccio fatica e sicuro conoscendo i miei ragazzi faranno fatica anche loro. Però poi si vedrà. Del girone D conosci qualche squadra? È solamente una questione di domenica mattina, di orario? Oppure come valuti, a prescindere da dove si andrà a giocare, come valuti il girone B e il girone D? Allora partiamo da quello che conosco di più che è il B perché l'anno scorso l'ho giocato e devo dire che il B è un campionato difficile dove ci sono tante squadre attrezzate. Forse anche proprio per il fatto che si giochi il sabato pomeriggio tanti giocatori che possono giocare in categoria superiore e magari scendono per avere un impegno meno gravoso. Il D lo conosco meno. Di certo ci saranno delle corazzate come Casarza e Caperanese che hanno messo su squadre per vincere il campionato. Sicuramente l'Aurora farà una buona squadra e una squadra sullo spezzino per vincere il campionato la costruiranno. Poi ci sono meno squadre quindi se ti vuoi salvare come l'obiettivo della Cogornese hai anche meno partite per salvarti. Quindi anche il D è un campionato impegnativo. Forse il campionato B è più tecnico, il D più fisico come si dice spesso però sono due campionati tosti. Perfetto, ultima domanda. Parlaci della tua partita di stasera e quindi preparerai la finalissima domani sera. Sì, domani sera preparerai la finalissima. Stasera abbiamo fatto una buona gara. Tenuto conto che comunque noi non abbiamo mai potuto allenarci ancora in un campo a 11 intero. Però i ragazzi hanno fatto bene, stanno capendo quello che chiedo da loro e vediamo domani come andrà. Mister Breveglieri, buona serata. Benvenuto al Trofeo Camatti. Secondo anno all'Umarzo. Come prevedi il nuovo anno all'Umarzo in terza categoria? Ci sono nuove squadre, ce ne sono alcune che non ci sono più. Quali sono gli obiettivi dell'Umarzo? Beh, diciamo che gli obiettivi sono quelli sicuramente di mantenere il gruppo unito come abbiamo fatto l'anno scorso. Quella prova ne è il fatto che praticamente tutti i ragazzi sono rimasti. Abbiamo incrementato il gruppo con dei ragazzi comunque di livello. Quindi niente, l'obiettivo non ce lo fissiamo. Cerchiamo giornata per giornata di migliorarci e di fare bene come stavamo facendo nel finale di stagione che purtroppo non si è concluso l'anno scorso. Perfetto. Quest'anno avete già iniziato la preparazione, dove vi state allenando? Avete trovato problemi per gli allenamenti, per l'utilizzo del campo? Raccontaci un po' la vostra esperienza. Abbiamo iniziato la settimana scorsa lunedì, ci alleniamo a Ferrada e per ora non abbiamo avuto nessuna difficoltà perché eravamo da soli e quindi ora dalla prossima settimana inizierà anche il Moconesi quindi vedremo di combinare un attimino gli orari. Diciamo che Ferrada sotto questo punto di vista aiuta abbastanza, visto che ci sono quattro spogliatoi quindi un po' più grandi e un po' più piccoli però ci si riesce a dividere abbastanza. Perfetto. Seconda esperienza al Camatti. Anche l'anno scorso avete condiviso con noi Calvarese la finalina terzo e quarto. Domani sera 19.30 alla nuova partita. Raccontaci come si è comportato il tuo gruppo nella semifinale di stasera contro la Cogornese. Una partita senz'altro molto impegnativa con un avversario di altro livello ovviamente e abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. non era sicuramente una partita semplice, bisognava fare esperienza, fare gamba e questo sicuramente l'avversario ci ha aiutato perché andavano veramente forti. Il tuo gruppo da quanti ragazzi è composto? Siamo più o meno 27-28, più dirigenti che si uniscono nel caso servissero anche come giocatori. Perfetto, perfetto. Infatti è quello che ci dicevi all'inizio. Avete rinnovato il gruppo, siete sempre presenti anche qua nel post partita e vi ringrazio perché avete risposto con un sì ci siamo appena ve lo abbiamo chiesto anche quest'anno. Grazie mille mister e buon campionato. Grazie a voi e complimenti per l'organizzazione. Eccoci qua, è finita adesso la seconda semifinale del Torneo Camatti, seconda edizione. Siamo qua con Andrea Brusco, preparatore dei portieri dell'Atletico Casarza e Francesco D'Amelio, neomister della Calvarese. Dunque chiedo a entrambi intanto un'impressione sulla partita, sono le prime partite della stagione quindi è anche difficile commentarle però qualche impressione esce sempre no? No, no assolutamente, anche se è la prima partita ne vediamo da una settimana dove abbiamo lavorato parecchio quindi era chiaro che i ragazzi non fossero al 100% però la cosa importante è che hanno provato a fare quello che abbiamo provato, che gli abbiamo chiesto, si sono impegnati e abbiamo già visto qualcosa, abbiamo già capito quello che si può fare e qualcosa che non si può fare. È la prima amichevole però è un buon inizio diciamo. Ti abbiamo visto un po' arrabbiato, più nel primo che nel secondo tempo. Sì, devo dire che al primo tempo abbiamo sbagliato cose che potevamo evitare di sbagliare, nel secondo tempo invece siamo più tranquilli, abbiamo giocato meglio la palla e abbiamo fatto un po' di più le cose che dovevamo fare. Bene, Andrea invece che fa le veci del mister? Sì, direi che noi abbiamo iniziato da poco, abbiamo fatto due allenamenti. La squadra in palla mi è sembrata, soprattutto nel primo tempo. Sì, soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo tempo siamo calati un po', ma è normale. Fisiologico. Anche perché abbiamo iniziato veramente da due giorni, poi c'erano anche i nuovi ragazzi di quest'anno che si sono inseriti bene, ho visto e comunque è stato un buon allenamento. Quali sono poi gli obiettivi dell'Atletico Casarza? Che sembra una squadra che ultimamente sta facendo ottimi campionati, arriva sempre lì. Sì, nello scorso abbiamo fatto un bel campionato, purtroppo poi il Covid ci ha fermato. In piena zona play-off. Sì, direi quest'anno ripetere comunque, rimanere in zona play-off e poi giocarcela anche in Coppa che eravamo arrivati in semifinale, poi purtroppo è bloccato tutto. Diciamo che il nostro campionato è questo. Storicamente l'Atletico Casarza è una squadra con un gran gruppo anche fuori dal campo, vero? Sì, sono tutti amici, anche i nuovi arrivati comunque si conoscono con gli altri ragazzi, quindi c'è un bel gruppo, anche dopo gli allenamenti ci fermiamo sempre su al campo a mangiare, così è una bella cosa. Francesco invece, parlaci un po' tu di questa tua nuova esperienza, appunto, che è nata dalla fusione della tua ex squadra Cornia con la Calvarese. Cosa ti sembra? Un bel progetto, vero? No, no, il progetto è un gran bel progetto. Era un po' che si voleva fare, è chiaro, io non sono della Valle però ormai sono della Valle adottato, anche perché in Valle ci sono venuto una vita perché mio figlio ci ha giocato qua e adesso ci sono io. No, il progetto è veramente un gran bel progetto, anche perché i ragazzi di qua c'è della qualità oltretutto, perché c'è parecchia qualità, è un ottimo gruppo e devo dire una cosa che mi fa più piacere che tante volte dalle fusioni c'è il rischio che non si riesca a creare subito il gruppo giusto, e invece qua vi sei ragazzi tutti convinti e veramente si sta già formando una bella cosa. Sono convinto che quest'anno toccando tutto quello che c'è da toccare ci sarà da divertirsi. Bene, faccio l'ultima domanda un po' sulla situazione invece della ripresa dei campionati, perché siamo sempre un po' in allerta, ora Spezia hanno vietato di nuovo le partite, quindi tutto sospeso, cosa ne pensate? Secondo voi si riuscirà a ripartire? Secondo me ripartire più che si riuscirà bisogna ripartire, secondo me bisogna ripartire. È chiaro con tutte le indicazioni del caso però l'unica cosa che io non capisco, secondo me è fattibile per lo meno i tamponi, visto che comunque i tamponi sono gratuiti, basterebbe far fare i tamponi, per lo meno all'inizio diciamo, essere tranquilli che ogni squadra partire con zero positivi e poi mano a mano monitorare, però già partire con zero positivi o comunque i positivi fermarli e partire secondo me potrebbe essere un buon inizio e non penso ci voglia tanto perché comunque i tamponi si fanno, invece che farli a caso si fanno mirati, ma lì è chiaro che deve essere la federazione che deve dare l'input, noi possiamo solamente dare delle idee però deve venire da lì. Certo, Andrea? Sì, come ha detto Fra noi cerchiamo di far rispettare le regole che ci sono, che già difficilissime per la società. Che comunque a livello dilettante non è che sei in teoria e quindi non è facile, però cerchiamo quello che possiamo di far rispettare le regole anche se non è facile. Assolutamente. E speriamo che si possa comunque cominciare e riuscire a portare avanti la stagione. Assolutamente, vi ringraziamo e ci rivediamo domani sera che ci saranno appunto le finali che saranno Atletico Casarza contro Lumarzo alle 19.30, 21.30 invece Calvarese contro Cogornese. Grazie ragazzi. Grazie.